Capito figliolo, tu sposerai la ragazza che dico io. Assolutamente no. Ma è la figlia di Jeff Bezos. Ok. Tua figlia sposerà mio figlio. No, mio figlio è il direttore della banca mondiale. Oh, ok. Mio figlio deve diventare il direttore della banca mondiale. No. Ma mio figlio è il genero di Jeff Bezos. Ah, ok, ok.